T'amo, ogni giorno, ogni istante di più T'amo, perché al mondo per me ci sei, soltanto tu Facciarti così, perfidamente, sentirti fremere di felicità Siamo giunti a metà della nostra settimana e noi continuiamo con lo spettacolo, con il divertimento, in collegamento ovviamente dalla Romagna Benvenuti a tutti gli amici di Romagna Mia in Italy, da Letizia, la vostra inviata speciale, ormai il vostro tormentone Ma vi porterò anche oggi, sono certa, un bel po' di energia Apriamo subito quest'oggi con un brano molto bello, direi un waltzere classicheggiante del 1924 E' stato il primo scritto da secondo Casadei e ispirato dal canto del cuculo Cucù per voi 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 E canterò, canterò. E canterò, canterò. Perché noi saremo veramente lieti di inserirvi nelle nostre scalette. Ringrazio tutti gli amici che ci stanno riempendo con le loro frasi piene di affetto nei nostri confronti. Quindi io vi lascio con un brano tratto dalla serata dei Big Deliscio a Cervia con Disperata. Ciao, a domani. All'inizio sono sempre tutti insieme. Tutti felici, contenti. Sorridono, c'è la risata. La pausa, la risata. La risata della disperata. Direi che anche il trío si possa fare tutti insieme. Primo trío. Tutti insieme. Altra risata, altro applauso. E adesso che parte? Non è facile capire il momento. Ce la sono. Forse. Adesso. Adesso. Claudio Nanni Musica Marco Questa è la prima interpretazione Perché c'è il gioco sulla disperanza Applauso al gioco Marco Nazarini Marco Tagliavini Eccoli là Vado a prendere i sax 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 insieme le mani di più la disperata